Qualche versetto, se volete possiamo anche alzarci in piedi, Luca 1, 31 a 33, l'angelo Gabriele che parla a Maria dice Ed ecco tu concepirai nel grembo e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Egli sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrai mai fine. A me il Signore grazie che tu sei venuto, che tu non sei rimasto in cielo distante dalla tua creazione, ma che tu ti sei avvicinato a noi in umiltà come un bimbo neonato, Signore. Ma grazie che tu sei comunque il Dio eterno, il figlio dell'Altissimo che regnerà per sempre, Signore. Non vediamo l'ora, quel momento quando tu stabilerai il tuo regno su questa terra, Signore. Ma grazie che tu già sei venuto per morire per i nostri peccati, per salvarci, riscattarci dalla morte e che adesso apparteniamo a te. Signore, io prego che mentre guardiamo la storia della tua prima venuta, che possiamo, insomma, avere orecchi pronti ad ascoltare la tua parola, ma che tu ci possa pure parlare, Signore. Quindi guidici tu stamattina e preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Ok, potete accomodarvi. Come sapete, domenica scorsa abbiamo concluso il libro di Filippesi. Con il nuovo anno cominceremo un nuovo libro, però visto che siamo al mese di dicembre, abbiamo ancora quattro domeniche, prenderemo queste quattro domeniche per vedere i primi due capitoli di Luca, che racconta, come voi sapete bene, la storia della nascita di Gesù, perché ci stiamo avvicinando adesso al periodo natalizio e quindi prenderemo questo mese. Sarà sempre uno studio espositivo, guardiamo Universetto, però per vedere la storia della nascita del nostro Signore. Quindi quattro domeniche per vedere i primi due capitoli di Luca. Poi con il nuovo anno cominceremo un altro nuovo libro. Quindi oggi praticamente vedremo due annunci di due nascite, annunciati dall'angelo Gabriele. Lui praticamente appare a due persone, uno si chiama Zaccaria, l'altro si chiama Maria e porta queste notizie di queste due nascite. Le due nascite sono Giovanni, Battista, figlio di Zaccaria, e poi la seconda ovviamente è Gesù Cristo, il nostro Signore, figlio di Dio. E dopo vedremo anche le reazioni di entrambi, di queste persone, come hanno reagito a questa notizia. E prego che possiamo insomma imparare anche tanto riguardo alla nostra vita in questi versetti. Bene, io leggo i primi versetti da Luca 1. 1. Quindi Luca scrive questo Vangelo, era un collaboratore di Paolo, di altri apostoli, perciò collaborando con loro sentiva tante di queste storie, da questi testimoni oculari, quello che è successo riguardo Gesù. E lui dice che scrive tutto questo affinché ogni credente abbia certezza di ciò che è scritto nella Bibbia, cioè che sono cose vere. Lui vuole assicurarsi che non crediamo in cose inventate, storie strane, ma che crediamo in cose vere, che sono confermate da tanti testimoni. E anche Pietro scrive una cosa simile, in secondo Pietro 1.16. Lui scrive, infatti, non vi abbiamo fatto conoscere la potenza e l'avvenuta del Signor nostro Gesù Cristo, andando dietro a favole abilmente escogitate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Quindi volevo anche incoraggiarvi stamattina, non seguiamo favole, non seguiamo storie inventate, seguiamo cose confermate storicamente dai centinaia di testimoni oculari, e anche Pietro ci vuole ricordare di questo. E poi dice che c'è un ordine nelle cose riguardo Gesù e Luca, è molto ordinato, comincia proprio dall'inizio, l'inizio, prima dell'inizio della nascita di Gesù, a raccontarci tutte queste cose, quindi anche noi cominceremo proprio dall'inizio e leggiamo versetto 5. Ai giorni di Erode, re della Galilea, vi era un certo sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abbia. Sua moglie era discendente da Arone e si chiamava Elisabetta. Erano entrambi giusti agli occhi di Dio, camminando irreprensibili in tutti i comandamenti e le leggi del Signore. Ma non avevano figli, perché Elisabetta era sterile ed entrambi erano già avanzati in età. Quindi Luca ci introduce, ci presenta questa coppia, Zaccaria e Elisabetta. Lui era sacerdote, infatti vedremo che lui andrà a Gerusalemme per il suo servizio sacerdotale. Anche lei era discendente di Arone, quindi dello stesso tribù. Vediamo che erano giusti davanti a Dio, vivevano vite appartate a lui, vite sante. Però c'era un problema, cioè non avevano figli. Lei era sterile e erano avanzati nei diani e quindi potremmo dire che ogni, se non quasi ogni speranza di avere figli non c'era più. Erano così senza figli. E sappiamo che dal versetto 25 che lei sentiva tanta vergogna a motivo di questo. All'epoca ancora di più di oggi, non avere figli, essere sterile, era una cosa che portava tanta vergogna. Però vediamo che anche altri nella Bibbia hanno avuto questa stessa situazione. Sara con Isacco, la mamma di Sansone con Sansone, Anna la mamma di Samuele. Tante donne che erano sterili, però il Signore ha fatto miracolo diverse volte. E vediamo che loro, nonostante questo, pregavano. Vedremo che Gabriele dice, io sono venuto per portare la risposta alle tue preghiere. Quindi loro pregavano comunque, anche se erano avanzati nei diani, Signore dacci un figlio. Da questo possiamo pure capire che a volte cose brutte succedono a persone buone. Tante volte pensiamo che le cose brutte dovrebbero succedere soltanto a persone cattive, cose buone, persone buone. Ma qui vediamo persone giuste, buone, davanti al Signore. E delle cose brutte sono successe anche a questa persona. A volte succede anche a noi, vero? Però dobbiamo sapere che Dio ci ha promessi non soltanto, o non semplicemente una vita facile, vero? A volte ci ha detto, ci saranno difficoltà, ci saranno cose che non vanno come vogliamo. Però ci ha promesso che sarebbe con noi in ogni cosa. E dobbiamo anche ricordare che quando cose brutte succedono ad altre persone, non vuol dire necessariamente che c'è un segreto, qualcosa di nascosto. Dobbiamo anche stare attenti. Comunque, questa coppia, giusta agli occhi di Dio, però sono senza figli. Vediamo cosa succede, versetto 8. Ora vende che, mentre Zaccaria esercitava il suo ufficio sacerdotale davanti a Dio, nell'ordine della sua classe, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di entrare nel Tempio del Signore per bruciare l'incenso. Intanto l'intera folla del popolo stava fuori in preghiera nell'ora dell'incenso. Quindi Zaccaria si trova a Gerusalemme per, insomma, compiere il suo servizio sacerdotale nel Tempio. Praticamente c'erano tanti sacerdoti in Israele e quindi tutte le diverse famiglie avevano diversi compiti nel sacerdotio. Erano divisi in 24 classi e quindi loro una settimana, due volte all'anno, salivano a Gerusalemme per compiere questo servizio sacerdotale. E quindi questo era il caso, il turno della classe di Abbia, Zaccaria è una di quella classe e sale per svolgere il suo servizio. E vediamo pure che due volte al giorno veniva offerto questo incenso nel Tempio e veniva sempre offerto da uno dei sacerdoti di turno. E questo era un grande favore, infatti uno poteva farlo una vita soltanto in tutta la vita. E non è neanche detto che uno lo farebbe in tutta la sua vita, perché tiravano la sorte per decidere. Quindi potremmo dire che questo era forse il giorno più importante della vita di Zaccaria. Lui può, come sacerdote, entrare nel Tempio per offrire questo incenso. Infatti entra, ricordate che non è entrato nel luogo santissimo, la parte più interna del Tempio, ma nel luogo santo per offrire questo incenso davanti al Signore. Quindi lui è entrato ed è lì che succede il resto di questo episodio. Vediamo che mentre lui entrava poi tutti erano fuori a pregare. E prima di andare avanti vogliamo notare questa cosa. Mentre lui va dentro il Tempio per offrire l'incenso, il popolo resta fuori e cosa fa? Prega, ok? Quindi vediamo che due cose salgono davanti al Signore. L'incenso e le preghiere. E sapete che biblicamente parlando queste due cose vanno insieme? Che l'incenso è una figura delle preghiere. Vediamo anche nel libro di Apocalisse che l'incenso raffigura le preghiere dei Santi. E quindi mentre Zaccaria va dentro il Tempio, loro stanno fuori e le loro preghiere sono come un profumo suave davanti al Signore. E facciamo bene ricordarci di questa cosa. Sapete che le tue preghiere sono come un profumo suave che sale davanti a Dio. Che Dio sente ogni tua preghiera e per Lui è come una cosa speciale, dolce, che vuole sentire. E questo fa parte del nostro compito. Sappiamo che ogni credente, in un certo senso, è un sacerdote. E questo fa parte del nostro compito. Il nostro compito, come sacerdote, è di pregare, di offrire quell'incenso davanti al Signore. Bene, andiamo avanti. Luca 1, 11. Allora, un angelo del Signore di apparve, ricordate, dentro il Tempio sta offrendo l'incenso, stando in piedi alla destra dell'altare dell'incenso, al vederlo Zaccaria fu turbato e preso da paura, ma l'angelo gli disse, non temere Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio al quale porrai nome Giovanni. Quindi, mentre è lì dentro, gli appare un angelo. Questo angelo si chiama Gabriele, come vedremo più avanti. Lui prende paura, si capisce pure perché. Già immagino che aveva timore stando dentro il Tempio di Dio e quindi, se nel Tempio gli appare un angelo, forse, insomma, immagino che avrebbe avuto paura. Però, così gli dice l'angelo, gli dice, non temere Zaccaria, cioè, stai tranquillo, non ci sono problemi, non temere, perché Dio ha ascoltato la tua preghiera. E forse, proprio in quel momento, Zaccaria stava pregando. Forse ha detto, è il giorno più bello della mia vita, io posso essere più vicino alla presenza di Dio. e quindi, forse, stava pregando proprio per un figlio. In quel momento ha detto, Signore, io sono qua, il più vicino, diciamo, al Tempio che sarò mai nella mia vita, ti chiedo un figlio. E proprio in quel momento Dio manda l'angelo per annunciargli questa buona notizia, cioè che lui avrà un figlio, il suo nome sarà Giovanni. Giovanni. E finalmente tutta quella sofferenza e vergogna che hanno sofferto in tutti quegli anni non ci sarà più. Non sarà un uomo qualsiasi, leggiamo il versetto 14, ed egli sarà per te motivo di gioia, di allegrezza, e molti si rallegreranno per la sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore, non berrà né vino, né bevande e né brianti, e sarà ripieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre e convertirà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio e andrà davanti a Lui nello spirito e potenza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti per preparare al Signore un popolo ben disposto. Qui l'angelo descrive come sarà questo figlio, parliamo di Giovanni Battista, e velocemente vediamo che lui porterà gioia a Zaccheria e a tutta la nazione, sarà grande davanti al Signore, sarà pieno di Spirito Santo, non divino, convertirà tanti al Signore, andrà davanti a Gesù per portare riconciliazione. Penso che l'ultima cosa che dice, e riassume bene, la missione di Giovanni preparerà la via per il Signore. Ed era questa la missione di Giovanni. Lui non è il Messia, lui invece è stato mandato per preparare la via per Gesù. Lui sapeva bene qual era, non pretendeva di essere chissà che cosa, ha detto io, sono venuto soltanto per preparare la via per il Signore, per Gesù, che è venuto poco tempo dopo. Ok, vediamo la reazione di Zaccheria, versetto 18, e Zaccheria disse all'angelo, da che cosa conoscerò questo? Poiché io sono vecchio e mia moglie è avanzata negli anni. L'angelo rispondendo gli disse, io sono Gabriele che sto alla presenza di Dio, e sono stato mandato per parlarti e annunziarti queste buone novelle. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si adempieranno al loro tempo. Vediamo che Zaccheria dubita, non crede subito, lui vuole un segno, chiede un segno, da che cosa posso conoscere, e poi cosa fa? Lui guarda nell'impossibilità nella sua vita. Invece di credere, ok, Dio mi ha detto questa cosa, invece di credere, lui guarda a se stesso, alla sua impossibilità, che era vecchio. E l'angelo, vediamo che risponde ad entrambe queste cose. Prima alla richiesta di un segno, dopo all'impossibilità, beh, anzi, prima parla dell'impossibilità, e Zaccheria pensa soltanto, diciamo, alla sua vecchiaia, alla sua debolezza, lui dice, io sono vecchio, come potrà essere? Io sono vecchio. Ma avete visto quello che dice l'angelo? Lui dice, io sono Gabriele. E mi piace questo contrasto. Zaccheria dice, ma io sono vecchio, siamo avanzati negli anni, non possiamo avere figli. E Gabriele dice, ma ti rendi conto chi ti sta parlando? Io sono Gabriele, che sto alla presenza di Dio, che sono stato mandato da Dio Altissimo per dirti questa notizia. E lui non lo dice per orgoglio. No, lui lo dice, io sono il servo, l'angelo del Dio Onipotente, e quindi se tu dici essere vecchio, io ti dico, io sono Gabriele, se io dico questa cosa, è come se Dio stesso te la dicesse alla tua faccia. e quindi lo riprende anche un po'. La sua mancanza di fede, doveva credere, invece ha dubitato, e aveva motivo anzi per credere, perché era proprio Gabriele che gli sta parlando. E poi torna alla questione del segno. Zaccheria aveva chiesto, da che cosa conoscerò questo? Come potrò sapere che si avverrà così? e Gabriele gli dice, come saprà che è la parola di Dio, gli dice, ecco, tu sarai muto e non potrai parlare. Zaccheria chiede un segno e riceve un segno. Forse non è il segno che si aspettava. Anche noi dobbiamo stare attenti quando chiediamo un segno dal Signore, è vero? Può essere che riceveremo un segno, però forse non quello che ci aspettavamo o quello che volevamo. E tutto questo succede perché lui non ha creduto. Invece di credere con un cuore aperto alla parola di Dio, ha guardato alle sue circostanze, alla sua impossibilità e questo era motivo di dubbio, di dubitare la parola di Dio. Ricordate quello che il nostro Signore ha detto a Tommaso, Tommaso che non c'era la prima volta, non l'ha visto, Gesù gli disse perché mi hai visto Tommaso, tu hai creduto. Poi sapete bene, beati quelli che non hanno visto ma che comunque hanno creduto. E questa è la vera fede. Tante volte vogliamo segni, può essere che capiterà a noi come a Zaccaria di avere un segno negativo, forse quello che non volevamo, però è sempre vero quello che il Signore dice, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Versetto 21, sempre in Luca 1. Intanto il popolo aspettava Zaccaria e si meravigliava che egli si trattenesse così a lungo nel Tempio. Ma quando uscì non poteva parlare loro, allora essi compresero che egli aveva avuto una visione del Tempio e gli faceva loro dei cenni ma rimase muto. E quindi subito uscito Zaccaria capisce che era veramente la parola del Signore e che succederà proprio come gli è stato detto. Ha provato a comunicare con gli altri facendo cenni, gesti, hanno capito che ha avuto una visione oltre a quello hanno capito poco perché non poteva parlare. Poi versetto 23, e avvenne che quando furono compiuti i giorni del suo servizio e gli ritornò a casa sua. Ora dopo quei giorni sua moglie Elisabetta concepì e si tenne nascosta per cinque mesi e diceva ecco cosa mi ha fatto il Signore nei giorni in cui ha volto il suo sguardo su di me per rimuovere la mia vergogna tra gli uomini. Quindi vediamo che Elisabetta concepisce, Zaccaria finisce il suo servizio a Gerusalemme e torna a casa, concepisce un figlio proprio come l'angelo aveva pronunciato. Ed è chiaro che questo è un miracolo, vero? Elisabetta era sterile, adesso non è più sterile ed è rimasta incinta. Però vedremo che questo non è lo stesso miracolo del concepimento di Gesù. Stiamo per vedere il secondo annuncio di un'altra nascita però questa nascita è completamente un'altra cosa. Vediamo che Dio qui ha aperto il grembo di Elisabetta però era una donna sposata non vergine che aveva rapporti con il suo marito mentre Maria come vedremo non era sposata era vergine non aveva avuto rapporti con Giuseppe eccetera quindi Giovanni è concepito in modo diciamo normale se posso dire mentre Gesù è concepito dallo Spirito Santo come vedremo quindi c'è una grande differenza perché appunto Giovanni è un servo di Dio del Dio Altissimo però come vedremo di Gesù lui è figlio del Dio Altissimo e sono due cose molto diverse bene adesso guardiamo il secondo annuncio versetto 26 nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth ad una vergine fidanzata a un uomo di nome Giuseppe della casa di Davide il nome della vergine era Maria e l'angelo entrato da lei disse salve o grandamente favorita il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne quindi nel sesto mese insomma vuol dire nel sesto mese della gravidanza di Elisabetta vediamo che Gabriele lo stesso angelo viene mandato a Maria questa donna giovane della città di Nazareth nella regione di Galilea era fidanzata a Giuseppe però non erano ancora sposati perciò era ancora vergine erano della casa di Davide il primo re della dinastia da cui doveva venire il Messia vediamo che Elisabetta e Maria erano parenti di qualche grado quindi vuol dire che anche Gesù e Giovanni erano cugini di non sappiamo di quanti gradi ma comunque parenti comunque viene questo annuncio a Maria la futura madre di Gesù che insomma ci sarà un figlio che nasce anche a lei notiamo come Gabriele saluta Maria gli dice salve grandemente favorita il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne penso che possiamo tutti quanti dire che questo è vero c'è scritto nella Bibbia aveva ricevuto tanto favore da Dio il Signore era con lei lei era benedetta fra le donne penso che possiamo tutti dire queste cose si capisce perché ha avuto il privilegio di portare nel grembo a partorire e poi crescere Gesù Dio fatto carne è un grande privilegio avete mai avuto pensato come sarebbe passare anche una giornata con Gesù io sì sarebbe bellissimo di averlo potuto conoscere in queste vite vedere come reagiva come parlava io sì e Maria più di qualsiasi altra persona ha potuto osservare a prima persona il nostro Signore Dio fatto carne e penso che potremmo tutti dire che sarebbe stata una grande benedizione osservare da vicino il nostro Signore lei è pure un esempio bellissimo di fede di resa al Signore come vedremo più avanti quindi se vogliamo essere biblici dobbiamo credere a queste cose vero? perché lo dice nella Bibbia e se vogliamo essere biblici dobbiamo fermarci qua vero? e non andare oltre a quello che c'è scritto crediamo che Maria era grandemente favorita benedetta un esempio ma non crediamo che era co-redentrice con il Signore non crediamo che è co-mediatrice con il Signore perché non c'è scritto così trovatemi il versetto nella Bibbia dove è scritto così non c'è se guardiamo alla Bibbia potremmo anche aspettarsi di vedere qualche insegnamento negli Atti degli Apostoli o qualche epistola che parla di questo però non lo vediamo proprio non parlano di Maria dicono invece che c'è un solo redentore e qual è il suo nome? Gesù Cristo e che c'è un solo mediatore tra Dio e gli uomini e il suo nome è Gesù esatto girate con me in primo Timoteo 2 1 Timoteo 2 5 vi è infatti un solo Dio ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini Cristo Gesù uomo il quale ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti secondo la testimonianza resa nei tempi stabiliti quindi quanti mediatori ci sono? Ce n'è solo solo uno e anche chi ha dato il prezzo di riscatto per tutti è solo uno è Gesù Cristo il nostro Signore e specialmente nella nostra zona c'è una grande enfasi come sapete meglio di me su Maria c'è una grande enfasi mi rende sempre triste c'è una chiesa qua su Montello con le parole di Gesù scritto venite a me Matteo 11 28 uno dei miei versetti preferiti immagino anche per voi ma sopra non c'è Gesù c'è una statua di Maria e questo è molto triste è molto triste e la soluzione per noi non è disprezzare Maria ok non è questo come vediamo biblicamente è una donna grandemente favorita benedetta ok facciamo bene seguire il suo esempio però la soluzione è pregare che la gente venga a Gesù come dice Giovanni chi ha il figlio ha la vita chi non ha il figlio non ha la vita e quindi noi dobbiamo ancora di più enfaticare l'importanza di Gesù Cristo il Mediatore è solo tramite Lui che possiamo accedere alla presenza di Dio è solo attraverso Lui che possiamo essere redenti dai nostri peccati bene andiamo avanti versetto 29 in Luca 1 ma quando lo vide ella rimase turbata alle sue parole e si domandava cosa potesse significare un tale saluto e l'angelo le disse non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio ed ecco tu concepirai nel grembo e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù egli sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine Amen Maria non si aspettava questa cosa giustamente non è ogni giorno a meno a me che apparano degli angeli quindi anche io sarei un po' sorpreso non me l'aspetterei era un po' turbata come Zaccaria si capisce perché però Gabriele come ha fatto Zaccaria vedi subito dice tranquilla non temere ho buona notizia per te infatti non portava brutte notizie portava belle notizie lei concepirà e partorirà un figlio questo non sarà un figlio qualsiasi vero non sarà neanche un figlio molto speciale come Giovanni Battista ricordate che mi ha detto sarà grande agli occhi cioè Gesù è ancora più grande di Giovanni come dice lui è figlio dell'Altissimo è Gesù il Salvatore del mondo il Cristo il Messia il Re del Regno di Dio che non avrà mai fine regnerà per sempre come ha detto Giovanni era un servo dell'Altissimo ma Gesù è l'Altissimo il figlio dell'Altissimo uno con il Padre vediamo che questo figlio sarà chiamato Gesù allora parliamo un attimo di questo nome Gesù allora in italiano diciamo Gesù perché è tradotto in italiano dal greco dal nome Gesù Gesù e Gesù è la traduzione del nome ebraico Gesù quindi Gesù in ebraico Gesù in greco Gesù in italiano ha fatto un bel giro questo nome di traduzioni e vuol dire semplicemente il nome Gesù vuol dire che Yahweh salva o che Yahweh è salvezza e questo nome descrive perfettamente la missione di Gesù vero lui è Yahweh fatto carne qui in questo mondo per portare a noi la salvezza per salvare l'umanità però come ho detto questo è anche un riferimento a qualcun altro nel antico testamento allora seguitemi se prendiamo il nome Gesù e dall'ebraico viene tradotto in italiano il nome Giosuè ok Giosuè e qui ovviamente ci viene in mente qualcuno dell'antico testamento una figura un leader del popolo di Dio che si chiama Giosuè e in tanti aspetti sapete Gesù è simile a Giosuè perché hanno lo stesso nome o forse serve meglio dire che Giosuè è simile a Gesù perché Gesù è quello eterno che ha sempre esistito e Giosuè è simile a lui allora che cosa ha fatto Giosuè lui sostanzialmente ha fatto sì che il popolo di Dio potesse entrare nella terra promessa quello che racconta il suo libro abbiamo un libro nell'antico testamento che si chiama Giosuè in quel libro Giosuè il leader del popolo li porta nella terra promessa cioè nelle promesse di Dio e cosa fa Gesù per noi ci porta in un certo luogo un certo terreno lui fa ancora di più lui ci fa ereditare le promesse di Dio lui porta a noi la salvezza che stavamo tutti quanti cercando Paolo scrive ai Corinzi poiché tutte le promesse di Dio hanno in lui cioè in Gesù Cristo il sì e l'amen alla gloria di Dio per mezzo di noi quindi Giosuè è il strumento di Dio per adempiere certe promesse al popolo di Dio Gesù è lo strumento tramite il quale Dio adempia tutte le sue promesse al suo popolo infatti Giosuè ha fatto ciò che Mosè non era capace di fare ricordate che Mosè ha guidato il popolo per tanti anni e li ha portati fino al confine della terra promessa però lui non li ha fatto entrare nella terra promessa solo Giosuè è sempre per la grazia di Dio ma solo Giosuè li ha fatto entrare nelle promesse di Dio e come dice anche in Giovanni 1 Mosè dava la legge o la legge è stata mandata tramite Mosè ma la grazia e la verità sono stati dati in Gesù e anche qui è una figura del nostro Signore se Mosè è una figura della legge cioè una lista di regole un elenco di cose da fare da non fare la legge non poteva mai portarci nella terra promessa cioè le opere non ci possono mai far ereditare le promesse di Dio arriva fino ad un certo punto cioè di illuminare a noi stessi quanto peccaminosi siamo quando mettiamo a confronto la nostra vita con la legge capiamo che non siamo mica perfetti e che abbiamo bisogno di quel Salvatore quindi Mosè è arrivato fino al confine ma non è mai entrato come anche noi non possiamo entrare nelle promesse di Dio per le nostre opere non possiamo seguire perfettamente una lista di regole per poi entrare nel favore di Dio no abbiamo bisogno di una persona Gesù Cristo che per la sua grazia ci fa entrare nelle promesse del nostro Signore e vediamo che Gesù ha fatto proprio questo lui ha adampiuto la legge per noi e adesso noi riceviamo le promesse di Dio non in base alle nostre opere alla nostra performance ma in base a quello che Gesù ci dà gratuitamente per grazia e mi fermo qua potremmo fare una predica intera soltanto sul nome di Gesù ok andiamo avanti qui non c'è neanche tempo dice che lui regnerà per sempre sul trono di Davide se regnerà per sempre è anche sottinteso che lui vivrà per sempre quindi parliamo del regno di Dio del patto che Dio ha fatto con Davide insomma di tutto quello che Dio vuole fare in questo mondo anche qui ci sarebbe una predica in terra ok però vediamo che insomma Gesù regnerà per sempre versetto 34 sempre in Luca 1 e Maria disse all'angelo come avrà questo poiché io non conosco uomo e l'angelo rispondendole disse lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti addombrerà pertanto il Santo che nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio ed ecco Elisabetta tua parente ha anche ella concepito un figlio nella sua vecchiaia e questo è il sesto mese per lei che era chiamata sterile poiché nulla è impossibile con Dio allora Maria disse ecco la serva del Signore mi sia fatto secondo la tua parola e l'angelo si allontanò da lei quindi Maria ha capito cosa doveva succedere cioè che sarebbe nato un figlio però non capiva ancora come sarebbe successo era sempre vergine era solo fidanzato con Giuseppe non l'ha ancora conosciuto perciò chiede come avverrà questa cosa Gabriella le spiega che lo Spirito Santo verrà su di lei concepirà e partorirà un figlio Gesù è stato concepito dallo Spirito Santo quando Maria era ancora vergine vedete la differenza tra Giovanni e Gesù Gesù è stato concepito in modo miracoloso quando Maria era ancora vergine infatti per questo si chiama figlio di Dio perché è letteralmente figlio di Dio e così anche adempia la promessa dell'Antico Testamento di Genesi capitolo 3 proprio le prime pagine della Bibbia la prima promessa del Messia c'è scritto in Genesi 3 15 che il seme della donna sconfiggerà il serpente cioè sconfiggerà la morte e il peccato avete mai pensato al fatto che una donna non ha il seme il seme della donna non ha tanto senso quindi deve essere qualcuno nato da una donna ok però un maschio e deve essere anche uno che può sconfiggere Satana e vediamo nella nascita di Gesù tutte queste cose vengono insieme perché è nata da donna figlio dell'Altissimo quindi è Dio e può sconfiggere Satana e la morte e quindi tutto quanto viene insieme nel Signore tutto al suo adempimento in Gesù e qui devo essere anche chiaro il testo non indica in nessun senso che c'erano stati i rapporti sessuali tra Dio e Maria ok questo non è così alcuni dicono ah sì ma no la Bibbia non dice mai una cosa neanche vicino a questa cosa giusto per essere chiari vogliamo essere più biblici possibile e biblicamente parlando non c'è nessun motivo per pensare che sia successo così adesso notiamo due frasi per concludere l'angelo dice nulla è impossibile per Dio io amo questo versetto nulla è impossibile per Dio non c'è niente che Dio non può fare o meglio Dio può tutto Dio può tutto lo crediamo anche nella nostra vita Dio può fare tutto non vuol dire che necessariamente farà tutto tante volte lui decide di aspettare a volte lui non risponde alle nostre richieste è vero però può fare tutto è onnipotente penso che questa è una sfida anche per le nostre per i nostri problemi cioè a chi o a che cosa guardiamo per le nostre soluzioni guardiamo ad altre persone forse altre persone potranno risolvere i miei problemi guardiamo ai soldi guardiamo allo Stato ah sì lo Stato risolverà tutti i miei problemi o alla psicologia psicofarmaci forse guardiamo a noi stessi possiamo guardare a migliaia di altre cose però l'unico che può fare ogni cosa è Dio e niente è impossibile per lui e quindi anche noi facciamo bene chiederci quando abbiamo problemi quando dobbiamo superare certe cose a chi guardiamo? guardiamo ad altre cose che non riescono mai ad aiutarci o guardiamo al Signore che può fare tutto e poi facciamo bene ricordarci sempre di questo fatto qual è la dimostrazione più grande della potenza di Dio il Vangelo è quello che Gesù morrendo e risuscitando per noi sulla croce questa è la dimostrazione più grande della sua potenza il problema più grande che noi era che noi esseri umani eravamo separati da Dio lontani da Lui impossibile ad essere riconciliati a Lui e Gesù con la sua potenza l'ha dimostrato morendo per i nostri peccati e risuscitando dalla morte girate con me in primo corinzi 1 leggiamo un versetto primo corinzi 1 18 sì primo corinzi 1 18 infatti il messaggio della croce è folia per quelli che periscono ma per noi che siamo salvati è potenza di Dio quindi tanti diranno ma tu credi veramente in quelle favole di cui si parla in chiesa cioè tu credi a quelle cose inventate tutto falso anche se abbiamo visto e se uno si studia bene vedi che insomma la Bibbia è anche approvato storicamente eccetera eccetera però il mondo dirà ma quel messaggio l'ale della croce è folia come puoi fare a credere a quelle cose invece cosa dice per noi che siamo salvati è potenza di Dio e quindi la dimostrazione più grande della potenza di Dio si trova in Cristo e solo in Lui e poi facciamo bene chiederci se crediamo cioè è veramente qualcosa in cui crediamo è nostro questo messaggio poi come ultima cosa notiamo quello che dice Maria però alla fine il versetto 38 dovrebbe essere mi sia fatto secondo la tua parola quindi Dio aveva annunciato una cosa non piccola a Maria ok immagino che lei avrà avuto bisogno di qualche settimana giusto per insomma pensare riambiantarsi a questa notizia però lei subito dice mi sia fatto secondo la tua parola cioè va bene io accetto la volontà di Dio per la mia vita lei come ho detto è un grandissimo esempio di fede di resa lei si era completamente arresa alla volontà di Dio ha detto ok se Dio vuole così va bene io ci sto e oggi abbiamo visto due annunci il primo a Zaccheria e qual era la sua reazione ma sono vecchio ma non lo so ma Zaccheria non ha risposto con fede mentre Maria ha creduto infatti in versetto 45 dice dovrebbe dire beata con lei che ha creduto perché le cose dettele da parte del Signore avranno compimento in entrambi questi casi la parola di Dio si è adempiuta avete notato non è che l'incredulità di Zaccheria ha fatto sì che Giovanni non nascesse avete notato è lui che non ha creduto e poi è rimasto molto ma Dio ha portato avanti la sua opera Dio ha fatto nascere Giovanni ha fatto nascere Gesù eccetera il punto non è la veracità degli annunci che erano sempre veri sul successo come è stato detto ma come vengono ricevuti penso che qui c'è anche una grande sfida per noi la parola di Dio è sempre vera vera non cambia resta là è sempre vera però sta a noi decidere come riceviamo questo messaggio noi lo riceviamo come se fosse veramente la parola di Dio noi riceviamo il Vangelo come se fosse veramente la potenza di Dio per salvare ogni uomo o dubitiamo di nuovo vediamo quello che viene detto a Maria in versetto 45 ed è vero anche per noi ora beate e colei o potremmo anche dire beati coloro che hanno creduto perché le cose dettele da parte del Signore avranno compimento e vi dico noi facciamo bene credere in Dio noi facciamo bene credere nella sua parola perché quello che lui dice succede e noi possiamo essere sicuri che se mettiamo la nostra fede in lui non saremo mai smossi amèn allora domenica prossima vedremo la continuazione di questa storia abbiamo visto tanti versetti abbiamo visto due annunci oggi e domenica prossima vedremo due cantici al riguardo la venuta del nostro Signore e tutto quanto per celebrare la nascita di Gesù ok e così in questo periodo possiamo anche insomma godere di più il vero significato del Natale è bello mettere su sai tutte le luci regali fare giri in piazza tutto quanto però dobbiamo anche ricordarci del vero significato cioè che il Dio vivente è venuto in questa terra è morto per i nostri peccati e ci ha dato la vita eterna questo è il vero significato del Natale amèn alziamoci in piedi finiamo qua Signore grazie per questo momento che abbiamo avuto nella tua parola grazie che tu hai preservato questa storia per noi queste storie di Zaccaria di Maria e Signore io prego che tu possa aiutare ad ognuno di noi di rispondere alla tua parola con fede Signore di non guardare ai nostri limiti Signore di non guardare alle nostre impossibilità ma di credere fermamente quello che dice la tua parola Signore perché così stiamo stiamo bene Signore grazie che tu sei così paziente con noi grazie che anche quando noi vaghiamo anche quando noi ci allontaniamo da te Signore tu ci vieni sempre a prendere riprendere e di portare con te Signore vogliamo veramente che le nostre vite siano piene siano piene di fede Signore aiutaci sempre a ricordare il vero motivo per cui celebriamo ogni dicembre ogni gennaio queste feste qua là tu sei veramente motivo per cui celebrare Signore aiutaci a ricordarci che sei tu il motivo per cui facciamo tutto questo Signore quindi guidaci tu Signore in questa settimana che possiamo essere testimoni luci fedeli a questo mondo che non ti conosce Signore preghiamo tutto questo nel tuo nome Amen